Raimondo Vinzeo, su Posillipo, è l'unico a compiere il percorso senza errori. Sono stati dei cavalieri che hanno dominato la scena mondiale. Ci montava per essere l'uno per l'altro. Se io avevo più grinta un po' di Piero, avevo un po' più ginger per dirlo. Si impugnava anche la forchetta a tavola, secondo Caprilli. Io mi sono innamorata di Piero, di Piero, non perché ero campione. Se non tornavamo con una medaglia, eravamo dei traditori della patria perché li avevamo abituati totalmente male tutti. Grazie.